Non si firmano gli atti vandalici nella città di Agropoli. Ieri pomeriggio è toccato alla stazione degli autobus dove sono stati rotti i vetri dei bagni pubblici. Si tratta di una spiacevole sorpresa messa in evidenza anche sul social di Facebook, in cui sono state postate le foto che mostrano i danni. Inoltre, e in questi giorni, ci sono state diverse segnalazioni sul campo sportivo polivalente intitolato a Peppino Impastato, in località Moio, dove alcuni residenti hanno notato dei ragazzi che si riuniscono fino a tarda serata facendo confusione baccano. In passato è stato danneggiato anche il Palasport Andrea di Concilio in Via Taverne. I gnoti si introdussero all'interno della nota struttura sportiva cittadina per rovesciare il contenuto degli estintori sulla pavimentazione, danneggiare i bagni e provocare ingenti danni. A tal proposito, i residenti chiedono maggiori controlli e sicurezza anche con il supporto delle videocamere per individuare chi si diverte a intaccare le opere pubbliche. In quest'ultimo periodo, non solo ad Agropoli ma anche a Marina di Camerota, il parco giochi è stato oggetto nelle settimane scorse di atti vandalici da parte di ignoti. Attraverso l'indennità del sindaco Mario Scarpitta è stato ripristinato il fondo, sono state acquistate nuove giostre, sono stati effettuati diversi interventi di riparazione. Sulla pagina social del Comune si legge per la terza volta in quattro anni siamo stati costretti ad intervenire per ripristinare i danni causati dai vandali, dice Scarpitta. Continuiamo ad utilizzare l'indennità per le opere da regalare al Paese e alla comunità, ma dover destinare questi fondi per interventi causati in questo modo non è più plausibile. Davanti a situazioni del genere sarebbe opportuno rieducare alla cittadinanza, mirando a un corretto funzionamento della società, che conducesse in particolar modo i giovani ad una crescita sia come persone che come cittadini responsabili.